Sono Colin Corpett Tutti e due Però è sempre comunque un arte marziale Contro un arte marziale E sembra professionale perché appunto stanno in un ring Un evento Quindi è professionale Ok se sei buggato giustamente Si vede una merda Se ci sono due pixel È tanto ma proprio tantissimo Incominciamo Vediamo le guardie Vediamo Ok La guardia di quello di canale fa schifo al cazzo Però almeno È accettabilina Non è come quella Ok incominciando con un calcio va bene Va bene Si vede C'è ragazzi è proprio malissimo Si vede mamma mia Sta facendo troppi calci Sta facendo questo Tutti quelli che abbiamo visto Tutti quanti cintura nera Tutti Tutti quanti C'è quello di Moita che sta studiando tutto E non ha preso manco un calcio Uno solo Però nel Nella gamba Non so cosa sia successo Ok Vabbè l'ha preso però Ma che Perché Che Che c'è Ma non mi dica Perché questo qua Ce l'ha fatto due pugni Che mi rom Cioè Ma dove N Cioè che cazzo di combattimento è Se non si possono dare i pugni in faccia Oh Cioè loro che caccio li hanno a fare i quanti Cioè non ha senso Cioè i calci in faccia Se li possono suonare Però i pugni no Giustamente Cioè lui si Lo può dare i calci in faccia Lui Lui da un pugno No Ecco è caduto Oppure Questo qua Di muovere Ha fatto tipo così Però Può essere Perché comunque Non tengono i guantoni Però Da quello che sto vendo Si stanno colpendo Si stanno colpendo parecchio Sul corpo Ma Non si possono colpire in faccia Non si possono colpire in faccia Muovere Sono proprio chiaro Il libido Non si possono colpire in faccia Stronzata 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 Cioè amico mio Ma un pugno Gli ha dato Ma che Cristo San Madonna Cioè io rispetto Tantissimo Il lottatore Quello là Dello scorso video Si è spaccato La cuffia Che ci ha spaccato Di botte Quello di MMA Ha fatto una bellissima figura Ha preso un pugno Due pugni in faccia Ma non è che Non è che è successo qualcosa Niente è successo Questo qua Ma Ma Prendo Piano piano Sono caduto A terra A due Cioè proprio Così Piano piano Questo No mamma mia Mi fa male la faccia Mi ha fatto male Cioè che cazzo Sto combattendo a fare Allora Cioè non combattere Le fate prima No Eh Cioè ho capito Ma Eh Eh dai Si bagga tutto qua Che cos'era sta cosa Bravo Ho ginocchiato nella panza Bravo Mi sto incazzando Eh Mi sto incazzando Che non si vede bene Eh Tiro un pugno Alla televisione Cioè ma io non capisco il fatto I calci in faccia sì I pugni in faccia no Cioè ma che senso ha Cioè Vabbè Si potrebbe capire Se magari i calci Facessero meno danno No Dice Boh Il calcio fa meno danno No È più forte il calcio Del pugno Ma che stronzata Che stronzata Oh però Questo qua di Karate Sta cominciando a fa Cioè Ha fatto due proiezioni Due tre Due tre proiezioni ha fatto Finito il combattimento Sì Combattimento di merda Che ha fatto Che ha vinto Nessuno ha vinto Non capisco chi ha vinto È Amen Amen Ma chi ha vinto? Nessuno Babbè Babbè Che c'è